Grazie a tutti i giorni, Fabio Aru, sul cuoio di breve appoggiamento di questa giornata Spettacolare di questa giornata, molto molto emozionante per quanto riguarda il ciclismo C'è la consegna degli premi dei mesi di questa parte di Giovanni Maletto Rice, assessore allo sport della regione Piemonte Premi per i campioni d'Italia, per le quiz a Pagian Nostra, Fabio Aru e per l'Isa Longo Borghini Grazie a tutti i giorni